Il mio personaggio è il dottor Luigi Conti E' un buon uomo, è un buon uomo In realtà il problema di fondo è che il dottor Conti non viene pagato Questo è il problema di fondo Perché non si vedono mai pagamenti, non si vede del denaro Allora mi danno del pollame? Mi danno degli animali? Come lo pagano il dottor Conti? C'è un accesso privilegiato alle stalle e il dottor Conti se la fa con gli animali di Borgolari? Ci sono molti misteri qui al borgolo, molti misteri Mi chiamano sempre Dove vai? Anche oggi un altro intervento, il bambino si è fatto male in fabbrica 57 secondi, ho la chiamata e l'arrivo Sì, 57 secondi, lui è il cronomeno Sapete quanto mi hanno dato questo intervento? Un c***o 57 secondi Si è fatto male qualcuno Dottor Conti, arrivo Attenti, attenti Quando i personaggi sono troppo buoni Nascondo sempre dei lati molto malvagi Lo vedremo in Borgolari 6 Il ritorno del dottor Conti Dalle paluti Dottor Conti Dottor Conti Dottor Conti Dottor Conti Dottor Conti Dottor Conti